Buongiorno Isabella Italia, oggi vi presentiamo il nostro nuovo prodotto che è San Canopy Arc completamente gonfiabile, è 4 metri di larghezza e 2 metri e 60 di profondità, gonfiabile facilmente da un'unica valvola. La bellezza e le caratteristiche proprio di questo tendalino parasole è di avere non solo il tubolare ad arco ma anche tre tubolari che consentono e permettono una grande stabilità del parasole. Anche questo parasole è infilabile comodamente nel vostro tendalino sia nel camper che nella caravan. È completamente con il tetto in tencate spalmato spalmato tre volte e tutta la bordatura è in acrilico quindi molto molto traspirante e anche bello esteticamente.